Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. L'Italia è ancora situata al di sotto di un flusso instabile occidentale che porta isolati temporali però piuttosto intensi. Anche nel weekend persisterà questo flusso instabile atlantico che porterà anche un caldo delle temperature in attesa di una nuova rimonta anticiclonica sub-tropicale che porterà gran caldo nel corso della prossima settimana. In Abruzzo per quanto riguarda questo sabato 10 settembre ancora possibilità di instabilità localizzata quindi possibilità di temporali localmente intensi nelle aree interne soprattutto l'alto sangro, la marsica anche l'alto vastese, qualche fenomeno potrebbe sconfinare sul primo entroterra localmente, molto localmente sulle coste, tutto questo in particolare nel mondo nelle ore pomeriggiane. Dopodiché in mattinata e poi in serata avremo tempo più variabile, un po' più stabile. Le temperature in ulteriore lieve calo massime tra i 26 e i 29 gradi minime tra i 16 e i 24 gradi. Con questo è tutto, a tutti voi e l'augurio di una buona giornata. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti. Grazie a tutti.